Un girone di ferro, forse mai così forte negli ultimi anni. Giù la maschera sul gruppo H di Serie D, annunciato nella giornata di giovedì 2 agosto. La Puglia perde un pezzo, le squadre che rappresentano la regione ai nastri di partenza sono 10 e non più 11, come nella scorsa stagione. Si tratta di Brindisi, Casarano, Fasano, Fidelisandria, Gravina, Manfredonia, Martina, Nardò, Ugento e Virtus Francavilla. Resta comunque la prevalenza sulle 18 squadre presenti, in un roster completato da due Lucane, Francavilla, Insigni e Matera, e sei campane. Angri, Costa Damalfi, Ischia, Nocerina, Palmese e Reala Cerrana. Le novità rispetto allo scorso anno sono ben otto, corrispondono al neopromosso Ugento, alle retrocesse Brindisi e Francavilla, ha ritrovato Francavilla e Insigni e a Costa Damalfi, Ischia, Nocerina e Reala Cerrana, inserite nel girone H dopo settimane di dubbi e ballottaggi virtuali con i gruppi G e I. Guardando gli organici allestiti a poco più di un mese dallo start del campionato, fissato per domenica 8 settembre, ci sono oggi pochi dubbi sul poker da tenere d'occhio più di tutti. Casarano, Fidelisandria, Virtus Francavilla e Nocerina, per organici allestiti, ambizioni e blasone, sono un passo in avanti rispetto alla concorrenza. Curiosità per quanto riguarda invece Martina e Nardò, i due club finalisti dei play-off nella scorsa stagione. In Valle d'Itria, per voce dell'allenatore Massimo Pizzulli, l'obiettivo minimo da raggiungere il prima possibile è stato fissato nella salvezza, mentre i neretini, passati di mano in panchina da Massimo Costantino a Fabio De Sanso, stanno affrontando una profonda rivoluzione tecnica. C'è poi il fattore chilometrico, si andrà da match tra realtà distanti, mezz'ora di auto come Brindisi e Virtus Francavilla, a trasferte da sei ore e mezza tra auto e traghetto, come quella che Lugento dovrà sostenere per giocare a Ischia. Per ridisegnare le gerarchie di partenza c'è ancora un mese abbondante di mercato, quello che separa dall'inizio del campionato, ma la Coppa Italia di categoria non aspetta. Si parte domenica 25 agosto con il primo turno eliminatorio, che tra le formazioni del girone H vedrà di scena Gravina, Manfredonia, Virtus Francavilla Ugento, Brindisi e Francavilla Insigni. Nel secondo turno tocca a Nardoffi, Delisandri e Fasano Matera, con ingresso nel tabellone anche di Martina e Casarano. Tante piazze, altre tante potenziali protagoniste del gruppo H, meglio noto come il girone di ferro.